Ciao a tutti e bentornati al nuovo episodio della nuova serie di Food Wars, ci troviamo a Taipei, esattamente alla base del grattacielo Taipei 101, che è il più alto della città e uno dei più alti al mondo, all'ottavo posto, esattamente con i suoi 508 metri di altezza. Il ristorante che la metteremo oggi si chiama Taipei Kung ed è un ristorante molto particolare perché specializzato in dim sum, ovvero i famosi raveoli al vapore cinesi. Ha una carta enorme ed è frequentatissimo, tanto che oggi dovremmo fare una coda circa 40 minuti per poter andare a mangiarlo. La particolarità del ristorante è anche che tutti i ravioli e i noodles che si mangiano al suo interno sono prodotti sul posto, quindi tutto fatto in casa rigorosamente. Sono molto ansioso di assaggiare le specialità di questo posto, quindi andiamo all'attacco. Questa è l'entrata del ristorante che come vedete è molto affollata, ci sono tutte le persone fuori che aspettano. In fondo c'è il pannello che indica quanto tempo ci vorrà ancora per mangiare, al momento che si arriva. E chiaramente nell'altro pannello, quello più grande, in rosso, vengono esposti i numeri che vengono chiamati, ovvero il numero di prenotazione, quindi una volta che compare il nostro numero potremo andare a mangiare. Allora, la carta del ristorante è piuttosto vasta, anche in inglese, e comprende principalmente ravioli, shomai, panse, tutto quello che diciamo che è simile al raviolo fatto al vapore, e i noodles. Tutto quello che producono qua è fatto in casa, quindi sia i ravioli sia i noodles sono tutti fatti in casa. Dopo ovviamente ci sono gli appetizer, le varie verdure saltate, il riso saltato e i dessert. Ci metteremo un pochino per scegliere, immagino. Allora, questo all'interno del ristorante è molto alla cinese, molto grande, un sacco di posti, però ha anche molto spazio per poter muoversi, non è ingombro. La parte più interessante è questa che stiamo andando a vedere, ovvero la cucina aperta, dove una moltitudine di cuochi incappucciati e con la mascherina per evitare contaminazioni di vario tipo, continuano imperterriti senza fermarsi mai a produrre ravioli. Come vi ho detto, la specialità di questo posto sono i ravioli e qui li fanno a mano. Vedete quanti sono e continuano a fabbricare, a confezionare ravioli di vario tipo. E i noodles anche chiaramente dall'altra parte. Allora, da sapere che li preparano a mano. La porzione minima sono 5 e qui il weekend in questo ristorante, mi hanno detto che arrivano a servire fino a 5.000 clienti al giorno. Una roba da pazzi. E questo è il posto dove il povero cuoco immerso nel vapore cucina con i vari cestelli di bambù e con tutti i vari ravioli in ordinazione. Per cominciare i cetrioli marinati piccanti. Ecco i famosi noodles fatti in casa piccanti con una salsa di noccioline. ed eccoci arrivati al momento dell'inshalomba, ovvero questi tipici ravioli, che abbiamo preso in vari modi. Qui li abbiamo al maiale e tartufo e sotto sono con uova di granchio e maiale. La particolarità di questi ravioli è che dentro sono liquidi. Andiamo a assaggiarli, non vedo l'ora. Allora, la tecnica per mangiare questi xiaolombao consiste nel prenderli, come vedete all'interno sono liquidi. Dentro hanno messo della gelatina che durante la cottura si è sciolta e quindi all'interno chiuso c'è un brodo. Verranno in pinkie nella salsa, composta da aceto di riso, salsa di soia e zenzero fresco tritato fino e poi lo si mette nel cucchiaio dove poi lo romperemo in modo, vedete, di far uscire tutto il sugo che c'è dentro. Delizioso! Questi sono quelli al tartufo, già si sente l'aroma da qua. Se vi piace il tartufo sono delizio. Buonissimo! Ed ecco i buns, come li chiamano qua. Questo qua è ripieno, è come un panino al vapore, è ripieno in questo caso di verdure e funghi. Ed ecco i dumplings, quindi i ravioli di agnello e coriandolo e in parte anche un po' di vegetali, anche un po' di verdure. Queste sono foglie della pianta di pigelli saltate. E si continua con i ravioli dumplings di maiale e gamberi. E per finire il dolcetto, ovvero dei buns, come prima quindi del panino al vapore, in questo caso si chiamano golden lava perché sono ripieni di crema calda, quindi che una volta morsicati o comunque tagliati, polerà come della lava. Quelli sotto invece sono più piccoli, sono i mini buns e sono ripieni al taro, che è una specie di patata violacea, una radice dolce asiatica. Ed eccoci usciti anche da Dintai Fung, questo famoso ristorante di ravioli cinesi, di Dinsan. Allora, cosa dire? È un buon ristorante, ottimo per certi punti di vista. Gli Xiaolongbao, quindi i famosi ravioli che avete visto farciti e semi liquidi all'interno, sono veramente deliziosi. E consiglio il ristorante principalmente per questa pietanza. Il resto era buono, ma non eccesso. Addirittura i dolci erano così così, sono molto diversi dai dolci europei, quindi la maggior parte di noi europei può rimanere un po' così, un po' delusa per questo. Comunque, il ristorante non è propriamente economico, almeno per quanto riguarda i prezzi qua di Taipei, per due persone abbiamo speso più o meno 64 euro, 32 euro a testa, più o meno bibite comprese, che non è tantissimo, ma qua per Taipei non è neanche poco. Da sapere che questo ristorante è sempre molto frequentato, si trova alla base della Taipei 101, quindi posto molto 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 conosciuto e turistico, e si trova anche nella guida Michelin, quindi per questo i prezzi sono un attimino alti. In ogni caso, se capitate a queste parti, fateci un salto e venite assolutamente a mangiare il Xiaolongbao, perché sono veramente deliziose. Io vi invito alla prossima puntata di Food Wars, che sarà domani sera. Ciao a tutti e a presto! Ciao a tutti!